C'è qualcosa, c'è qualcosa di particolare, indefinibile, che solamente chi è nato qui può percepire, anche inconsciamente. È un'emozione che non si può descrivere, che è difficile far comprendere agli altri. Va provata. Abbadia e le fiaccole sono la stessa immagine, lo stesso amore. Sono nate da un senso di circolo amoroso di Abbadia intorno a se stessa. Abbadia intorno a se stessa. Abbadia intorno a se stessa. Abbadia intorno a se stessa.